Abbiamo oggi ospite dei nostri studi Alessandro Giuliani, titolare di Vigilar, società leader nei servizi di vigilanza privata nella provincia di Pesaro Urbino e di Rimini. Chiediamo a Giuliani intanto una percezione del settore sicurezza nel nostro territorio. Per quanto riguarda i furti abbiamo un osservatorio particolare che è la nostra centrale operativa, cioè quanti allarmi riceviamo e poi quanti sono reali o piuttosto dei falsi allarmi per cui inviamo sempre la nostra guardia giurata, la pattuglia che controlla se è un furto reale e se ci sono dei malintenzionati che stanno rubando. Furti veri e propri ce ne sono ovviamente, ma più o meno nella norma non c'è un incremento. Ci sono dei periodi che magari aumentano, soprattutto nel periodo estivo dove si lasciano le finestre, le porte un po' più spalancate per il caldo e quindi in quel periodo aumentano. Adesso stiamo andando in un altro periodo dove storicamente e statisticamente aumentano, cioè il periodo novembre-dicembre, prima delle festività natalizie, dove chi ha i ladri generalmente fanno un po' di provvista di soldi, quindi aumentano i furti. La soluzione è quella di proteggersi, di fare prevenzione, quindi di installare chi non ce l'ha già un impianto d'allarme, delle telecamere e se è possibile anche collegarsi con un istituto di vigilanza come il nostro che garantisce un osservatorio del proprio impianto d'allarme e delle telecamere 24 ore su 24. Quindi quando c'è la minima percezione che ci può essere un'intrusione interveniamo con le nostre guardie giurate sul territorio. Il cliente è un cliente che ha la lungimiranza di prevenire e attivarsi con la realizzazione di un impianto oppure deve prima, come si dice, sbatterci il muso, essere derubato e poi riparare? Purtroppo sì, purtroppo si chiudono i cancelli quando i boi sono già usciti, quindi quando subisce il furto si accorge che proteggersi è un vantaggio, quindi il mio consiglio è sempre quello di anticipare, cioè mettere un impianto d'allarme che, contrariamente a quello che si pensa, ha dei costi molto accessibili. Un impianto d'allarme costa tra i 1000 e i 2000 Euro, secondo dei rilevatori che si vanno a montare, quindi se lo possono permettere tutti e noi applichiamo anche delle condizioni di noleggio, dove chi non ha un impianto paga un canone di 50-60 Euro e c'è compreso sia il noleggio dell'impianto, l'installazione, l'assistenza tecnica e l'intervento di una guardia giurata 24 ore su 24. Vigilare una società con sede a Fano che dalla provincia di Peso Rubino negli anni si è allargata anche a quella di Rimini, due territori ampi e delicati, anche la provincia di Rimini è particolarmente sensibile al discorso criminalità, le chiedo quale sono la tipologia di clienti sui quali lavorate principalmente? La nostra tipologia di clientela è mista, abbiamo dalla piccola attività commerciale, il piccolo negozietto alla grande azienda dove facciamo anche installazione di impianti complessi con dei nostri tecnici diretti, quindi telecamere, impianti d'allarme, antincendio e tutta la tecnologia che andiamo a installare, fino al privato. Il privato è molto interessante perché siamo l'unico istituto, provincia di Rimini, provincia di Peso che garantisce il pronto intervento 24 ore su 24. Diciamo che è un servizio che viene apprezzato soprattutto dai privati perché le persone di solito di giorno sono al lavoro, sono a scuola, quindi le abitazioni sono vuote e garantire una sicurezza con un impianto d'allarme attivo dà tranquillità al privato che si può permettere lo stesso un euro al giorno o due euro al giorno per collegarlo all'istituto di vigilanza e ad avere un pronto intervento anche di giorno. Rimini è un po' particolare, intanto è la provincia e il comune col più alto tasso di furti perché ovviamente aumenta esponenzialmente d'estate la popolazione per cui è quello che ha bisogno più di sicurezza. Sono tre anni che abbiamo aperto la nostra unità su Rimini e ci sta dando grosse soddisfazioni tra l'altro soprattutto nel periodo estivo, abbiamo tutte le spiagge dal Bagno 1 al 150 e poi anche quelle di Riccione, del comune di Riccione dove noi garantiamo la sicurezza attraverso dei quadri. Un'azienda in espansione inevitabilmente cerca personale, è anche il caso di Vigilar? Sì, anche noi siamo continuamente alla ricerca di personale e sono aperte la ricerca di posizioni di guardie giurate, se la persona, uomo o donna che sia, ha già i titoli di guardia giurata è a titolo preferenziale perché assumiamo ogni settimana persone e siamo perennemente in selezione, per cui stiamo cercando, siamo arrivati a 130-140 dipendenti e in stagione arriviamo anche in 160-170, per cui per offrire un servizio adeguato ricerchiamo persone che formiamo, che affianchiamo ai vari servizi che ci sono e cerchiamo guardie giurate, addetti al portierato, quindi personale non armato, tecnici e anche commerciali perché poi per crescere è necessario anche vendere i servizi e lo facciamo con personale nostro, degli agenti nostri che spiegano quella che è la nostra filosofia e quello che è il nostro concetto di sicurezza.